22 denunciati, 13 veicoli sequestrati, 14 mila euro in sanzioni amministrative elevate. Questi i numeri dell'operazione Stop and Go, una delle più grandi che sia stata mai portata avanti in Sicilia per ciò che riguarda le discariche abusive. I carabinieri di Agrigento indagano dal 2018 e alla fine hanno denunciato 22 persone responsabili di aver alimentato per mesi con i rifiuti di ogni genere una discarica abusiva a cielo aperto di oltre 1500 metri quadri alle porte di Porto Empedocle. L'operazione si chiama Stop and Go proprio per il repentino abbandono dei rifiuti e l'immediata fuga. Registrati dalle telecamere, disseminati dagli investigatori, oltre al sequestro dell'area e alle salate sanzioni amministrative che hanno colpito i soggetti interessati, questa volta è stato colpito anche il patrimonio degli indagati. I carabinieri infatti, su provvedimento della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno sequestrato i veicoli tra furgoni, mezzi, cassonetti e comuni autovetture con cui gli insospettabili sono stati ripetutamente sorpresi a disseminare l'area di immondizia.